proprio in questa piccola fascia di bosco qua sopra ho trovato abbastanza funghi e questo è il cestino che per ora avevo raccolto con i funghi trovati là sopra poi da lì sopra mi giro qua sotto e vedo questo qua che ho appena trovato e lo vado a riporre ma perché faccio il video perché da qui ho fatto un po di passi e attenzione sono rimasto colpito da questo esemplare qui cioè non ho assolutamente parole non so se si riesce a capire la grandezza ma è proprio è un qualcosa di eccezionale veramente questo è un porcino rosso o finofilus che gambo spero di trovarne ancora di così ma è un po dura